Interviste mai viste. Intervista a Pinocchio. Io sono Marco e questa è una lezione della serie Interviste mai viste. In ogni lezione faremo alcune domande a un ospite speciale. Migliorerai il tuo italiano in modo semplice, naturale e divertente. In questa lezione intervistiamo... Ascolta l'intervista. Fai attenzione alle spiegazioni che ti dirò e prendi nota delle parole e delle espressioni che ancora non conosci. Ascolta un'altra volta l'intervista. Prima di iniziare voglio ricordarti di iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perdere nessuna lezione. Ora ascolta l'intervista e fai attenzione alle spiegazioni. Benvenuto Pinocchio! Grazie per l'invito! Sono contento perché ho saltato un giorno di scuola! Saltare un giorno di scuola o di lavoro significa non andare a scuola o al lavoro in un giorno in cui si dovrebbe andare. Ora ti farò qualche domanda Ti farò qualche domanda Significa Ti farò alcune domande Qualche è seguita da un nome singolare Possiamo dire Alcune domande O Qualche domanda Mi raccomando Non dire bugie Rispondi con sincerità Mi raccomando Non dire bugie Mi raccomando Questa espressione si usa per dare un consiglio molto forte Per dire a qualcuno che deve fare o non fare una cosa Significa Fai quello che ti dico Fai attenzione a quello che ti dico Prima di tutto voglio chiederti Come sta Geppetto? Mio babbo sta benone Mio babbo sta benone Babbo Significa papà Ma si usa solo in alcune regioni d'Italia Per esempio in Toscana e in Emilia Romagna Si usa anche nell'espressione Babbo Natale Sta benone Significa Sta benissimo Sta molto bene Come mai Sei ancora un burattino di legno E non un bambino Perché la fata turchina È lunatica Come mai Sei ancora un burattino di legno Come mai Significa Perché Per quale motivo Si usa solo per fare domande Mai Nelle risposte Un burattino È un pupazzo di tessuto o di un altro materiale Che una persona muove mettendo la mano all'interno In realtà Pinocchio è più simile a una marionetta Un pupazzo che si muove con i fili Ma per riferirsi a lui solitamente si usa la parola burattino La fata turchina è lunatica Lunatico Lunatica È qualcuno che ha un carattere strano Che non è emotivamente stabile E si arrabbia facilmente Ieri ero un bambino Stamattina lei mi ha trasformato in un burattino Stamattina lei mi ha trasformato in un burattino Stamattina significa Questa mattina Pinocchio ti piace di più essere un burattino di legno o un bambino? Per me fa lo stesso Per me fa lo stesso Significa Per me è uguale Per me non fa differenza Per me è la stessa cosa Però in inverno preferisco essere un bambino Così se mi siedo vicino al camino Non rischio di bruciarmi Se mi siedo vicino al camino Il camino o il caminetto È uno spazio della casa Dove si accende il fuoco per riscaldarsi Che mi dici del gatto e la volpe? Sono diventati più buoni e onesti con te? Ma che? Loro due sono i soliti imbroglioni Ma che? Significa Assolutamente no Per niente Ma che esprime una negazione molto forte Loro due sono i soliti imbroglioni Significa Loro due sono gli stessi imbroglioni Loro due continuano a essere imbroglioni Un imbroglione Un imbroglione Un imbrogliona È una persona che vuole ingannare o imbrogliare gli altri Pochi giorni fa hanno cercato di vendermi a un negozio di giocattoli Addirittura Addirittura Significa È una cosa incredibile Addirittura si usa per esprimere grande meraviglia Mi hanno detto Vieni con noi Ti portiamo in un posto dove ti divertirai un sacco Ti divertirai un sacco Un sacco significa Molto Moltissimo È un'espressione informale Ma che si usa spesso anche in situazioni formali Quando siamo arrivati Ho sentito il negoziante dire Questo lo metto in vetrina Questo lo metto in vetrina La vetrina È la parte di un negozio Che si vede dall'esterno E dove si mettono alcuni oggetti che sono in vendita Fai attenzione Pinocchio Stai alla larga dal gatto e la volpe Stai alla larga dal gatto e la volpe Stare alla larga da qualcuno o da qualcosa Significa Stare lontano da qualcuno o da qualcosa Loro cercano sempre di fregarmi Ma io li conosco bene ormai Non ci casco Loro cercano sempre di fregarmi Fregare qualcuno significa Fregare è un verbo informale Ma si usa molto spesso Ma io li conosco bene ormai Ormai o oramai Può avere diversi significati In base al contesto In questo caso La frase significa Ora io conosco bene Il gatto e la volpe Io so già Chi sono il gatto e la volpe Non ci casco Significa Non mi lascio ingannare da loro Cascarci Significa Essere vittima Di uno scherzo O di un inganno Pinocchio Il grillo parlante Continua a darti buoni consigli? Buoni consigli? Il grillo parlante È un rompiballe Pinocchio Non dire brutte parole Per piacere Chiedo scusa Volevo dire Che il grillo parlante È un rompiscatole Il grillo parlante È un rompiballe Un o una rompiballe O rompipalle È una persona fastidiosa Che causa disturbo agli altri Queste parole sono molto informali Quasi volgari Un'alternativa più elegante È rompiscatole Ora ti faccio l'ultima domanda Cosa ti piace fare Nel tempo libero? Mi piace andare in biblioteca Mi piace andare in biblioteca La biblioteca È il luogo dove sono raccolti e conservati Libri e altri documenti Che possono essere letti da chi fa richiesta Ha però Chi l'avrebbe detto? Ha però Chi l'avrebbe detto? Ha però È un'esclamazione Di sorpresa Di meraviglia Chi l'avrebbe detto? Si usa per sottolineare Che una cosa È inaspettata Per dire che una cosa Ci sorprende E qual è l'ultimo libro Che hai letto? Non vado in biblioteca Per leggere i libri Ci vado Per fare scherzi Alle persone Mi diverto Da morire Ci vado Ci vado Per fare scherzi Alle persone Ci vado Significa Vado In biblioteca La particella Ci Può sostituire Un luogo Menzionato prima In questo caso Sostituisce In biblioteca Fare scherzi Alle persone Fare uno scherzo A qualcuno Significa Dire o fare qualcosa A qualcuno Con l'obiettivo Di ridere Di divertirsi Mi diverto Da morire Da morire Significa Moltissimo Tantissimo Grazie Per aver accettato Di fare Questa intervista Pinocchio Non c'è di che È stato Un piacere Non c'è di che Significa Prego E un altro Modo Per rispondere A chi ci dice Grazie Bene Ora Ascolta Un'altra volta L'intervista Pinocchio Sarà utile Per ripetere Tutte le parole E le espressioni Che abbiamo visto Benvenuto Pinocchio Grazie Per l'invito Sono contento Perché ho saltato Un giorno Di scuola Ora Ti farò Qualche domanda Mi raccomando Non dire Bugie Rispondi Con sincerità Prima di tutto Voglio chiederti Come sta Geppetto Mio babbo Sta benone Come mai Sei ancora Un burattino Di legno E non Un bambino Perché La fata Turchina È lunatica Ieri Era un bambino Stamattina Stamattina Lei mi ha Trasformato In un burattino Pinocchio Ti piace di più Essere un burattino Di legno O un bambino Per me Per me Fa lo stesso Però In inverno Preferisco Essere Un bambino Così Se mi Siedo Vicino Al camino Non rischio Di bruciarmi Che mi Dici Del gatto E la volpe Sono diventati Più buoni E onesti Con te Ma che Loro due Sono i soliti Imbroglioni Pochi giorni fa Hanno cercato Di vendermi A un negozio Di giocattoli Addirittura Mi hanno detto Vieni con noi Ti portiamo In un posto Dove ti divertirai Un sacco Quando siamo arrivati Ho sentito Il negoziante Dire Questo Lo metto In vetrina Fai attenzione Pinocchio Stai alla larga Dal gatto E la volpe Loro Cercano Sempre di fregarmi Ma io li conosco Bene ormai Non ci casco Pinocchio Il grillo parlante Continua A darti Buoni consigli Buoni consigli Il grillo parlante E' un rompiballe Pinocchio Non dire brutte parole Per piacere Chiedo scusa Volevo dire Che il grillo Parlante E' un rompiscatole Ora ti faccio L'ultima domanda Cosa ti piace fare Nel tempo libero? Mi piace Andare in biblioteca Ah però Chi l'avrebbe detto? E qual è L'ultimo libro Che hai letto? Non vado In biblioteca Per leggere I libri Ci vado Per fare Scherzi Alle persone Mi diverto Da morire Grazie Per aver Accettato Di fare Questa intervista Pinocchio Non c'è di che E' stato Un piacere Ti è piaciuta Questa nuova lezione? Puoi usare Questo dialogo Anche per esercitarti A parlare In italiano E migliorare La tua pronuncia Prova Prova a dire tu A voce alta Le frasi Del giornalista E di Pinocchio Io ora ti saluto E ci vediamo Alla prossima lezione A presto Per A presto Grazie a tutti.